Musica Buon pomeriggio e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In apertura del nostro telegiornale, intervista esclusiva al capo della procura di Bari, Roberto Rossi, intervistato dalla nostra direttrice Maddalena Mazzitelli all'interno del Telebari Social Night. Si è parlato dell'aumento del fenomeno dell'usura, ma anche di come le organizzazioni criminali si stanno riorganizzando sul territorio. Sentiamo. Noi non abbiamo dati statistici significativi, però indubbiamente in momento di crisi economica e la situazione un po' particolare della difficoltà delle banche, eccetera, sta comportando un aumento di questo fenomeno dell'usura. I procedimenti per usura sono molto difficili da gestire perché in qualche modo a volte si crea un'alleanza tra usurato e soggetto che presta soldi e usura. Però devo dire che negli ultimi tempi stiamo ottenendo degli ottimi risultati grazie a bravissimi colleghi con diverse misure cautelari e sequestri. La criminalità barese si sta riorganizzando con anche nuove leve e l'abbiamo visto anche da alcune indagini arruolate dai clan. Temete degli effetti sul territorio e anche di che tipo? Il problema più serio purtroppo è che la criminalità organizzata, soprattutto sui giovani, sui ragazzi, in qualche modo è un grosso fascino perché crea un'identità. Cioè il ragazzo che incontra una struttura molto precisa, determinata, con dei ruoli di potere ben delineati, con un'attenzione sociale anche rispetto a questa figura dell'appartenente a un clan, ha una grossa attrazione, soprattutto lì dove non ci sono situazioni di profondità culturale o di identità sociale forte. Cambiamo decisamente argomento e ci trasferiamo alla Fiera d'Elevante. Oggi si è parlato di transizione energetica e soprattutto del ruolo della Puglia in questo processo. Ce ne parla Roberto Maggi. La sfida della transizione ecologica ed energetica e il Mediterraneo e i Balcani come possibili alternative per gestire la crisi, la Puglia prova a guardare al futuro con la discussione sulle strategie da porre in essere per affrontare il nuovo contesto geopolitico. Se da un lato uno dei temi è quello di trovare nuovi mercati energetici, e in questo il tacco dello stivale ha da sempre giocato un ruolo raccollante con i territori che si trovano al di là del mare, dall'altro è necessario percorrere nel medio termine la via dell'indipendenza energetica. In tal senso la scelta di candidare Taranto come polo dell'idrogeno nazionale dovrebbe essere nelle intenzioni del governo regionale uno dei modi per intraprendere questa strada con un ruolo da protagonisti. Noi abbiamo candidato Taranto a polo dell'idrogeno nazionale. Siamo i primi produttori di energie alternative, quindi possiamo produrre anche idrogeno che serve ad avere temperature un po' più alte per le industrie energivore a basso costo. E quindi questo è il processo al quale stiamo lavorando da tanti anni che peraltro garantisce autonomia strategica ma anche salute per le persone perché non ci sono emissioni di CO2 elevate, non ci sono emissioni di sostanze inquinanti. Siamo impegnati sul tema dell'energia, del protagonismo energetico che vuole avere la regione Puglia. Le condizioni in questo momento consentono non solo un'attenzione internazionale rispetto a investimenti a poter fare in Puglia per le condizioni climatiche e paesaggistiche ma consentono la necessità di infrastrutturare meglio il territorio. Cambiamo argomento e torniamo a parlare di Covid perché aumentano i casi ma ancora contenuti. Per fortuna nel frattempo si tenta di accelerare sulla vaccinazione soprattutto per le quarte dosi. Abbiamo chiesto ai cittadini baresi qual è il loro approccio rispetto alla campagna vaccinale e anche al Covid. L'ha fatto per noi Michele Denora. Stiamo parlando di Covid. Secondo lei si ha la stessa paura dell'inizio? No, assolutamente no. Con i vaccini che sono stati fatti no. Paura no, però sto sempre attento di non prenderlo perché anche se è leggero però porta sempre delle complicazioni. Perciò è meglio stare attenti ancora. Un po' meno. Comunque ho fatto la quarta dose e mi sento più tranquillo. No, assolutamente. Adesso c'è un rientro del panico generale. Quasi non ci si pensa più. No, adesso col vaccino, con tutte le nuove ricerche, tutti gli studi che si sono fatti, sicuramente c'è più conoscenza e quindi meno paura. Assolutamente la gente ormai, a cominciare da me stessa, mi sono scocciata. Allora la mascherina la porto, vedo che nessun altro lo porta, a volte mi sento impacciata, però dico vabbè voglio non ammalarmi. Punto. E siamo alle notizie dal nostro sito. In un minuto ci colleghiamo con Tiziano Tridente. Tiziano buon pomeriggio. Sì, eccoci Alessandra dal nostro sito. La notizia della strage di gattini per un presunto avvelenamento che arriva da Carbonara. La colonia felina non censita aveva trovato casa in una zona tra Via Dante e Via Venezia, non lontano dal cimitero di quartiere. Gattini simpatici che portavano gioia, ci ha raccontato uno dei residenti della zona, li abbiamo trovati morti uno ad uno. La segnalazione è stata inoltrata alle autorità competenti per confermare la causa della morte. Cambiamo argomento e ci spostiamo sul lungomare dove sono iniziate le riprese del film Septimo, prodotto da Picomedia per Netflix, che vede protagonisti Riccardo Scamarcio e Annabelle Wallis, attrice britannica da un milione di follower sui social, già nota al grande schermo per successi cinematografici del calibro di X-Men, King Arthur e La Mummia. La polizia locale per consentire le riprese ha disposto limitazioni al traffico fino al primo novembre. Restiamo sul lungomare di Bari e chiudiamo spostandoci a Palese, dove sono quasi terminati i lavori di demolizione e pulizia delle ceneri dell'ex ristorante L'Ancora. Il quartiere così ha subito guadagnato un nuovo skyline vista mare, un panorama per molti inedito, già super fotografato e diventato popolare sui social. A te. Ringraziamo Tiziano Tridenti e noi andiamo avanti con la cronaca. La Guardia di Finanza ha sequestrato nel Barese circa 900 mila prodotti contraffatti in provincia di Bari e ad Andia. Si tratta di 900 mila prodotti contraffatti e non sicuri, tra cui 700 mila capi di abbigliamento e oggetti di bigiotteria, 50 mila prodotti elettrici ed elettronici, 30 mila giocattoli, 90 mila dispositivi di protezione individuale, parliamo di mascherine non conformi e 76 puntatori laser vietati in quanto classificati come estremamente pericolosi e segnalati al sistema di allerta europeo. Ad Andia è stata inoltre individuata una stamperia del falso con macchinari industriali utilizzati per la produzione, il confezionamento di abbigliamento e sono stati sequestrati 11 mila prodotti contraffatti con famosi brand, tra cui Gucci e Valentino. E torniamo a parlare del convitto Cirillo perché è stata trovata alla quadra, scongiurati dunque i doppi turni, c'è la soluzione per gli studenti dopo lo stop alle lezioni iniziato lunedì, mercoledì si dovrebbe tornare in aula, ovvero domani. Roberto Maggi Una rete metallica per mettere in sicurezza due porzioni di corridoio, 27 aule che saranno utilizzabili già da mercoledì, sembrerebbe arrivata una soluzione la vicenda dell'istituto Domenico Cirillo di Bari. L'annuncio dell'inizio dei lavori era stato inviato alle famiglie venerdì sera attraverso una circolare della dirigente, non per problemi strutturali ma per lavori già programmati per evitare lo sfondelamento dei solai, aveva tenuto a precisare il delegato all'edilizia scolastica della città metropolitana Marco Bronzini. Fatto sta che sono stati giorni di ansia per capire dove e come sarebbero proseguite le elezioni. Il sindaco De Caro, intervenuto nella consueta trasmissione di Telebari, ha spiegato come mercoledì elementari e medie dovrebbero quindi rientrare nel plesso principale. Per la scuola superiore verrà temporaneamente riattivata la storica Carlo del Prete di Corso Benedetto Croce, scuola di infanzia e primaria chiusa negli scorsi anni tra mille polemiche. Tranne per le sei prime per le quali invece si utilizzerà un ulteriore plesso, quello della La Terza. Man mano che saranno completati i lavori nelle altre aree della scuola, anche i ragazzi delle superiori potranno tornare. Si è parlato indicativamente di una tempistica che si aggira attorno alle tre settimane. L'attività della mensa potrà proseguire regolarmente per le classi del primo ciclo che resteranno al Cirillo, mentre sarà momentaneamente sospesa per gli alunni delle superiori. Parliamo di una quarantina di ragazzi su oltre 700. Ma almeno è stata scongiurata l'ipotesi dei doppi turni, ha spiegato la dirigente scolastica. Ipotesi questa appaventata nelle prime ore dopo l'annuncio dei lavori e che maggiormente aveva messo in allarme le famiglie degli studenti. E adesso parliamo di una segnalazione che ci arriva ad alcuni cittadini baresi. Parliamo di un attraversamento pedonale pericoloso in via Capruzzi. L'assessore comunale ai lavori pubblici Giuseppe Galasso prende in carico questa segnalazione. A me ce ne parla a Senera Russo. La segnalazione è già stata girata alla ripartizione traffico per verificare la possibilità, eventualmente, di installare nel punto incriminato un semaforo pedonale temporizzato e a chiamata. Contestualmente la sollecitazione è rivolta alla polizia locale a monitorare il punto considerato da molti pericoloso. Non perde tempo l'assessore comunale ai lavori pubblici Giuseppe Galasso, che comincia a valutare le opzioni a sua disposizione per rendere più sicuro l'attraversamento pedonale di via Capruzzi, situato all'altezza dell'Eurospin. Mi è capitato spesso e volentieri di stare più di dieci minuti fermo lì, spiega un cittadino, perché le macchine non accennano a fermarsi, anzi accelerano, e qualcuno imbecille si permette persino di suonare per far desistere il pedone dall'attraversamento. Si lamentano con queste parole alcuni cittadini che rimarcano la necessità di intervenire, soprattutto per la presenza a pochi metri di una scuola e dunque degli strudenti riversati per strada. Quando si attraversa quella via non si sa mai se ne uscirà indenni o no, aggiunge una ragazza. Segnalazioni prese immediatamente in carico dall'assessore, che adesso chiede qualche giorno di tempo per verificare la fattibilità di alcune soluzioni. Non edizione per il Network Internazionale Danza Puglia, che accoglierà coreografi professionisti da tutto il mondo. Michele De Nora. Un viaggio lungo nove anni, quello del Network Internazionale Danza Puglia, un progetto che quest'anno concentra crescita, apertura e condivisione nella nuova edizione presentata. Insegnanti e allievi avranno la possibilità di formarsi con coreografi professionisti provenienti da tutto il mondo, grazie alla cura dell'Associazione Culturale Ricerca e Sviluppo Coreografico. Tutti gli artisti sono una novità, perché sono nuovi artisti, gente che viene nel nostro territorio a portare una propria arte e ognuno con una particolarità diversa. Abbiamo artisti che vengono dalla Costa d'Avorio, dall'Algeria, dal Belgio, dalla Francia e tanti artisti italiani. E questo per me è davvero importante sottolinearlo, perché l'internazionalizzazione è anche un sostegno del nostro stesso territorio. E' una voglia di conoscere e far scoprire tanti artisti, artisti che hanno già un percorso fermato, ma anche giovani coreografi. Il programma occuperà tutto l'anno 10 artisti, ospiti e 6 spettacoli in cartellone nella rassegna all'arte dello spettatore, in scena al Teatro Traetta di Bitonto. Saranno invece nove gli appuntamenti di formazione e pedagogia alla Casa delle Culture del Comune di Bari, partendo già dal prossimo weekend. La cultura a Bari non si è mai fermata neanche un istante, quindi la nona edizione del progetto Network Danza Puglia di Ezio Scamulli, che colgo l'occasione per ringraziare per la sua passione, determinazione e abnegazione che da tanti anni mette in campo con questo progetto, nell'ospitare persino residenze di compagnie dall'estero e nel diventare anche lui ambasciatore del nostro territorio quando va fuori, ecco, lo accogliamo a braccia aperte, invitiamo gli spettatori a partecipare a eventi culturali come la danza, perché non diventino soltanto di un pubblico elitario, ma la danza, come abbiamo dimostrato in tutta la programmazione estiva, nelle periferie e anche dentro ma anche fuori dai teatri, diventa un po' appannaggio di tutte e di tutti. Siamo alle notizie dalle province e dalla regione e andiamo subito a Trani, dove al Comune è stato realizzato uno sportello per i cittadini che portano a chiedere l'ormai indispensabile speed gratuitamente avvalendosi del supporto del personale dedicato. Ce ne parla Massimo Pillera. Da martedì 18 ottobre al Comune di Trani sarà possibile richiedere lo speed in maniera gratuita. Due, gli uffici dedicati, l'ufficio elettorale nelle giornate di martedì dalle 8.30 alle 12 e di giovedì dalle 15.30 alle 17.30. E l'ufficio carte di identità elettroniche il venerdì dalle 8.30 alle 12.00. Dopo l'introduzione del pagamento attraverso il POS, continua il percorso di digitalizzazione del Comune di Trani. Da martedì infatti sarà possibile recarsi agli sportelli di questi uffici. Un servizio super efficiente, lo speed al Comune, era un problema per tanti cittadini. Stiamo cercando di andare incontro ai cittadini, semplificando, aiutando i cittadini sicuramente a interloquire molto più velocemente. Abbiamo pensato quindi a un servizio che non fosse soltanto un servizio per il Comune, ma al contrario per il cittadino. Lo stiamo facendo in questi anni con una vera e propria rivoluzione informatica qui all'interno della nostra casa comunale. Lo abbiamo pensato per i cittadini. Siamo convinti sull'utilità assolutamente dello speed per loro. E torniamo ancora a Bari, in particolare all'ospedale di Venere, dove è stato presentato un nuovo apparecchio endoscopico 3D, a donarlo una delle associazioni che seguono i pazienti già in cura nelle reti sanitarie. Vediamo insieme. Una colonna endoscopica di ultima generazione, una platea che ad oggi conta già circa 7500 persone solo nell'asle di Bari. L'azienda sanitaria locale ha presentato la nuova apparecchiatura donata all'ospedale di Venere da Micro Italia ODV, associazione che dà assistenza alle persone affette da malattie infiammatorie croniche intestinali. Dopo l'ospedale Perinei di Altamura, l'unità operativa semplice a Valenza dipartimentale, screening del carcinoma colonretto ed endoscopia digestiva del di Venere, ad essere dotata di questa tecnologia per incrementare l'attività del team, che da più di due anni ha ottimizzato il lavoro in questa importantissima branca. Questa macchina, come è stato anche detto, serve sia per quanto riguarda il progetto delle malattie croniche intestinali, infiammatori croniche intestinali, con cui collaboriamo con l'associazione, che è un progetto innovativo perché permette di prendere in carico il paziente, quindi non c'è il problema in questo caso di lista di attesa. Il paziente viene preso in carico e seguito per tutto il percorso, e gli esami che deve fare sono automaticamente inseriti in agenda da parte del gruppo. Le modalità per accedere a questi percorsi sono molteplici, dallo screening per il carcinoma fatto in farmacia al progetto MICI, attraverso il quale una serie di pazienti viene introdotta in un percorso multidisciplinare che abbraccia anche altri settori e consente di ottimizzare le risorse a disposizione, per esempio favorendo la proprietà delle indagini diagnostiche a tutto vantaggio del contenimento delle liste d'attesa. Un paziente che viene da noi nel momento che viene preso in carico ha già programmate tutte le visite specialistiche. C'è un'equipe di circa 20 medici da diversi ospedali che in corsie preferenziali, cioè con delle agende di gruppo, prendono in carico il paziente e ci danno i loro consulti. E in pochissimo tempo senza aspettare delle liste d'attesa. Un professionista adeguato con una macchina adeguata può fare tanto, può dare il massimo al paziente e all'interessato. Questo si traduce in una migliore qualità, in un minor disconforto del paziente durante e dopo l'esame e soprattutto anche in una riduzione degli esami richiesti. E adesso andiamo a Putignano dove si è tenuto un convegno di studi sui temi della sicurezza stradale, delle norme del nuovo codice della strada all'indomani della diffusione dei monopattini. Ce ne parla Francesco Russo. Ci sono voluti 30 anni per approvare la riforma del codice della strada all'indomani dell'introduzione e dell'uso sempre più frequente di velocipedi e monopattini elettrici che rappresentano la nuova frontiera della mobilità sostenibile. Ma se da un lato muoversi è diventato abitudine smart, dall'altro è sinonimo di violazioni e rischi di incidenti stradali, in particolar modo in città. Nel 2019 l'Istat calcolava un incremento del 15,5% di vittime di sinistri tra i ciclisti. A formare addetti ai lavori, forze dell'ordine, avvocati e giovani patentati, l'appuntamento proposto dall'associazione Generazione Putignano che ha ospitato il dottor Gian Domenico Protospataro, dirigente della polizia stradale presso il ministero degli interni e tra i fautori del nuovo codice della strada. Per le aziende dei trasporti tuttavia restano ancora delle criticità. Ci sono ancora molti punti lacunosi proprio per quel che riguarda i nuovi strumenti più moderni di mobilità. faccio riferimento fra tutti al monopattino che per noi operatori professionali sulla strada è sempre un problema perché interfacciarsi, soprattutto quando andiamo in città con i mezzi trasporto merci, con questi nuovi strumenti di mobilità del tutto deregolati e noi riteniamo che lo siano ancora deregolati, c'è troppa incertezza ancora. Noi abbiamo individuato questo come maggiore punto di criticità nel nuovo codice. Vorremmo ancora una maggiore regolamentazione. Siamo in chiusura di questa edizione. Non mi resta che ringraziarvi per averci seguito. Vi auguro un buon poveriggio. Un saluto ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì l'Italia continua ad essere protetta da un campo di alta pressione che domina la scena sul Mediterraneo. Pertanto avremo ancora condizioni di stabilità con sole protagonista un po' ovunque. Osservando la mappa della nuvolosità notiamo infatti come il nostro paese sia praticamente sgombro da nuvole. Nuvole che interessano l'Europa più occidentale ma si tratterà al più nel nostro paese di qualche nuvola bassa o foschia o banco di nebbia quindi addensamenti medio-bassi che interesseranno le pianure e le vallate del centro. Osservando anche lo zoom delle precipitazioni il nostro paese continua a rimanere all'asciutto così come anche gran parte dell'Europa centrale ma anche i settori più occidentali insomma giusto qualche pioggia verso la Spagna per il resto comunque il clima rimane asciutto sul nostro paese a oltranza. Nel dettaglio quindi tempo previsto sull'Italia. Avremo una giornata all'insegna del sole da nord a sud. Clima asciutto. Come dicevo qualche foschia o banco di nebbia non mancherà a lungo il po' sulle pianure limitrofe insomma del nord Italia così come nelle vallate interne del centro. Temperature sempre di sopra delle medie con punte ancora una volta vicine ai 25-26 gradi sul versante terrenico e lo zero termico che sulle Alpi potrà anche raggiungere i 4.000 metri di quota. Tutti i dettagli li trovate sull'app di Trebi Meteo.